musica a a a a a a E' il mio, è il mio, è il mio, allora, 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 non ci sto facendo, allora, questo è il mio, quindi, dovrei, dovrei scostarlo, però, oddio, ho fatto emozionata, poi, 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 vediamo questo, si, è il mio, ok, ok, perfetto, questo cos'è, sono emozionata, poi, poi, questo, io, ok, poi, questo c'è scritto mio, oddio, chissà cosa, forse casserà le mani trappate di quel chiesto da tanto, poi, questo, mio, si, dettaglio, che l'hanno preso, perfetto, perfetto, poi, cos'è, che, 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 cos'altro, niente, si, questo, questo, mio, ok, mi sento che parlo, e, ok, normalissimo, e, ci vediamo, buon metà, ragazzi, questo video più che altro riguarderà, ehm, lo scartaggio dei regali, insieme a voi, c'è anche mio cugino, e, beh, quindi, spero che, il mio cugino è simpatico, quindi, spero che, mi divertiate in questo video, e, vabbè, ci vediamo allo scartaggio, adesso, che ore sono, potessi di vedere, che ore sono, ok, perfetto, quindi, all'1, no, alle 12, oh, tra le 12 c'è l'1, devo scartare tutto, ok, le 11 e 24, ok, oh, ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazzi, in questo video, allora, eh, vi farò vedere se è il mio cugino, tutti i ragazzi, mi hanno aiutato, e, scarteremo anche il castello dei marietti, perché sta lì, ecco, non ho fatto sopra, non ti ho ripreso, ci ho messo il dito davanti, e, il mio cugino, saluto, ciao, sono il cugino di Chiara, e, oggi, come ha detto lei, scarteremo questo bellissimo regalo che gli hanno fatto, ma se nemmo più lo vedere, puoi scartare, poi lo fare, tutto, 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 è uguale, mi hanno dato i miei ziii, io, tipo, sono felice, e, questo cos'è, lo so, c'è, è, è sopra un libro, che, di Percy Jackson, che è questa bellissima notizia, e, e, il regalo più bello, assoluto, di tutto l'universo, è questo, io non avevo un telefono, oggi mi hanno regalato un telefono, io sto impazzendo, e, e la bottiglia, non è vero, io non vero, e, vabbè, non so, sono, yes, e, bene, questi erano i regali più importanti, perché gli altri, sono calzini, e, cioccolatini, quindi, un'agenda molto bella, e, dei bellissimi calzini, e, bene, e, di tutto, dobbiamo scartare, il castello di Mara, tolla, questa è la scartola, qui è scritto Marisa Point, scritte, ehm, Castel Light Up, cioè, il castello che si illumina, è scritto anche in spagnolo sotto, quindi è più facile esatturlo, e, qui c'è questa roba bella, e, vabbè, questa è la scuola, questi sono tutti gli oggetti che ci sono, so, sedici, non raccontati cosa c'è scritto, e, dietro, lì, c'è, l'immagine del castello, che la metto al gritto, non è così, una volta scartato, eh, sì, va bene, però, eh, comunque, vabbè, adesso, e noi, lo scartiamo, eh, comunque, vabbè,drganiz, uff, 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 hurtful, fuggito, diciamo con il castello, Siediamo per la scuola per darvi questo regalino, che, fa, per me, non è, non è, non è, non di, devi, devi soltanto, rompere lo scotch, no, mi spara scalare, dai, per questo, adesso, faccio le scotto le conservo, scusate, è la mia hazia, le scotto le conservate, e, qua, abbiamo, questo, Abbiamo, questo, Prada, l'elettro devo montarlo, Io non so che l'ho già pintata Sì vabbè E' facile Vabbè dobbiamo montare tutto questo castello Eeeh va bene Yes ok abbiamo finito Yeeees Poi lei è la cosa più bella del mondo Che non so manco come si chiama Ma non lo so Poi c'è questo bello Cadence con la corona non colorata C'è un vestito C'è un cappadello C'è un cappadello Questo qua che non ho mai veduto Eeeh Questa è la foto Qui sta Si però magari gira Io lo so così Ed è bello Eeeh bene Ciao a tutti Spero che il video vi sia piaciuto Donate like, commentate Iscrivetevi